Ciao ragazzi e benvenuti su Gastroove Drums. Il video di oggi non vuole essere il solito video. Magari guardando il titolo avrete detto ma è sempre accordatura, Luca ne ha già parlato eccetera 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 ma sempre guardando il titolo avrete capito che oggi non voglio essere io a parlarvi di accordatura ma voglio lasciare la parola, cioè vi parlerò anch'io, ma voglio principalmente lasciare la parola a uno dei batteristi italiani più famosi, uno dei batteristi italiani più forti che abbiamo in questo momento. Il suo nome è Phil Mair, molti di voi già lo conosceranno per chi non lo conosce ancora Phil Mair appunto è uno dei batteristi più chiamati, più registrati, che fa più concerti in questo momento in Italia ha lavorato con Pino Daniele, con Francesco Renga, con un sacco di gente e oggi sarà lui a parlarvi di tutta la questione accordatura, principalmente dell'accordatura del rullante. Che cosa ho fatto per far sì che sia lui a parlarvi di questa cosa? Sono andato a estrapolare un pezzettino, a rubare un pezzettino di una puntata su Vibely in cui c'è tutta una serie fatta da lui dove va a parlare della cassa, come accordarle in più modi diversi se vi è andata su una jazz, se è andata su una rock, il rullante è stessa cosa, rullante panettone, rullante accordato alto eccetera 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 va a parlare dei ton, va a parlare dei piatti, va a parlare veramente di tutto quello che è il suono della batteria vuole spiegare come fa lui e come ha fatto ad arrivare a trovare il suono perfetto una cosa molto importante che vi dico già a inizio video, anche se non siamo ancora partiti proprio del tutto ma c'è in realtà un regalo per voi, un regalo per tutti quelli che stanno guardando questo video lo trovate qui sotto in descrizione, è un regalo contenente un bel po' di materiale vediamola così, quindi avete la possibilità di vedere un po' più di cose guardate questo video, poi andate sul link e vedrete un bel po' più di cose non vi posso dire che cos'è perché se no la sorpresa non c'è più andate qui sotto in descrizione, cliccate sul link e vedrete che cos'è, vi piacerà, ne sono sicuro quindi non voglio dilungarmi troppo, andiamo direttamente su Vibely e vi faccio vedere l'inizio di questa puntata ciao, benvenuti a questa puntata dedicata all'accordatura, alla mia accordatura e ci occupiamo in questa puntata del rullante non entro adesso nel merito del rullante, di che cosa hai fatto, del cerchio perché sono delle considerazioni che non riguardano più di tanto l'accordatura parto dalla pelle molto lenta, con tutti i tiranti al minimo della tensione quindi con la pelle che è praticamente morta comincio a tendere i tiranti e lo faccio con le dita questa è un'operazione importante perché quando avrò tirato tutti i tiranti scusate il gioco di parole con la sola forza delle dita avrò raggiunto circa la stessa tensione dappertutto dare la stessa tensione a tutti i tiranti, ragazzi, è una cosa fondamentale è proprio un metro di misura, diciamo, fondamentale perché ci permette di avere la stessa tensione dappertutto sulla pelle questa è una cosa molto spesso sottovalutata ma in realtà la pelle nel momento in cui è posizionata proprio sul fusto deve essere perfettamente dritta sul fusto se noi andiamo a tirare tutti i tiranti da una parte della pelle e andiamo a tirare solo successivamente gli altri tiranti dall'altra parte la pelle non sarà più perfettamente dritta ma tirando prima questi tenderà a inclinarsi un po' è una cosa che praticamente non riusciamo neanche a vedere a occhio nudo però questa minima inclinazione, questa angolazione della pelle fa sì che il fusto e la pelle insieme non combaciando perfettamente non riescano a suonare proprio come devono quindi suonare bene ok andiamo avanti e vediamo come continuare con la cordatura del nostro rullante ecco adesso che ho ottenuto la stessa tensione dappertutto comincio a tirare gradualmente la pelle con l'utilizzo della chiavetta ecco qui è molto importante la sensibilità perché faccio dei piccoli giri che sono meno di un quarto di giro sono proprio la metà di un quarto di giro è proprio una cosa che oramai ho memorizzato un micro giro ecco ma proprio un colpetto unico e lo vado a dare in maniera omogenea a tutti i tiranti in senso orario potete farlo anche in senso anti orario per carità non c'è una legge e comincio così a tendere la pelle a un certo punto quando avrò raggiunto un'intonazione sufficiente comincerò a sentire una nota dominante ecco vado a controllare che questa nota sia la stessa in tutti i punti di tensione quindi vado a mettere il dito che non utilizzo in mezzo per stoppare un po' la pelle e vado ad ascoltare gli armonici colpendo con la mia chiavetta la pelle in prossimità del tirante e vado a sentire l'eventuale differenza di tono per esempio questa questa risulta più tesa questa più molla quindi scendo un pochettino con questa e salgo un po' con questa sentite che adesso ho la stessa nota dappertutto quindi continuo applicare la stessa tensione a tutti i tiranti ecco io non amo i rullanti troppo tirati quindi penso di aver raggiunto un buon compromesso una cosa che voglio dire ragazzi è questa fate attenzione a questa cosa di intonare diciamo il rullante nel senso contate che la batteria non è uno strumento con intonazione sempre perfetta lo vedete anche come fa Phil non sta lì perfettamente a cercare proprio la stessa identica nota deve essere un'intonazione più o meno omogenea cioè più o meno tutti i tiranti devono avere la stessa intonazione quindi cercate questa intonazione cercate di avere più o meno la stessa intonazione ma non andate a impazzire perché altrimenti non ne uscite più perché l'intonazione della batteria ci sono mille note che suona la batteria anche solo se andiamo a provare con la chiavetta dappertutto quindi fate questa cosa perché è importantissima però ragazzi come fa Philmer senza impazzire quindi cercatela e poi quando la trovate più o meno uguale da tutti i tiranti sarete a posto non amando i rullanti troppo tirati tendo anche a stopparli un pochettino perché più la pelle è tesa e più diciamo così la nota si definisce e il rullante è più facile da controllare sulle accordature medie e medio basse invece si tende ad avere molta sporcizia che però è anche il suo bello quindi vado a diciamo così posizionare un pezzettino di moon gel nel punto che mi interessa chiaramente per decidere dove mettere il moon gel vado a scegliere un punto in base al punto in cui vado ad applicare una pressione che corrisponde più o meno a quella della sordina vado diciamo così a eliminare degli armonici che non mi interessano quindi è molto importante fare degli esperimenti quindi cambiare la posizione del moon gel per trovare il suono che ci interessa adesso posso attivare la cordiera ecco per la pelle sotto invece non vado a fare questo lavoro dettagliato di ricercare l'omogeneità in tutti i punti faccio una cordatura di massima quello che è importante è che la pelle non sia troppo molla perché se è troppo molla chiaramente i fili della cordiera non vibrano neppure troppo tesa perché se è tesa a vetro anche lì purtroppo i fili non vibrano per cui deve esserci così una giusta via di mezzo che permette alla cordiera di vibrare non c'è una regola anche qui va molto a orecchio così come anche la tensione della cordiera è una cosa molto soggettiva io amo sentirla molto molto morbida non troppo controllata c'è chi invece ama sentirla più ferma la cordiera questa è una questione di gusti quindi adesso abbiamo veramente finito di accordare il rullante ha parlato di sordinatura ha parlato anche della questione pelle sotto che più o meno la corda sempre nello stesso modo ma senza impazzire senza andare troppo troppo di fino come ha fatto con la pelle sopra anche perché comunque la nota del rullante è data principalmente dalla pelle sopra quindi è quella più importante di tutte quindi vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate un mini regalo che voglio fare a tutti quelli che hanno guardato questo video vi chiedo un commento qui sotto dicendomi cosa ne pensate di questo video ma soprattutto appunto andate sul link vi consiglio di andare sul link cliccate e vedrete tutte le cose che ci saranno in regalo per voi perché sono un po' non sarà solo quello che avete visto oggi ma ci saranno un bel po' di cose quindi con questo ragazzi io vi saluto voglio ringraziare sicuramente Filmer per aver creato questa serie su Vibely e per avermi dato la possibilità di far vedere anche a voi questo spezzone di far vedere tutte le altre cose che ci sono come regalo che vi ho detto prima poi andrete a vedere con questo vi saluto veramente e noi ci vediamo al prossimo video ciao grazie a tutti